Noi già da dieci anni siamo nelle sei nazioni, è la partita oggettivamente per l'Italia che può essere un punto di riferimento quella con l'Argentina? Chiudi altre magari? Sì, sicuramente come dici tu è diventato un po' un derby questa partita qua. Noi negli ultimi anni siamo andati in Argentina, abbiamo vinto delle partite là, le abbiamo perse qua in casa contro di loro, e sono sempre partite tirate fino alla fine ed è per questo che è diventato un po' un derby. Credo che proprio per quello ci vorrò una determinazione importante per questa partita qua e dare il massimo. L'Argentina l'ultimo coppio del mondo ha raggiunto un impensabile terzo posto. Quanto siamo lontani noi magari da raggiungere quegli obiettivi, magari in contrapposizione, in paragone con l'Argentina? Beh, bisogna guardare la realtà, siamo ancora un po' lontani dal terzo posto nella classifica mondiale. Penso che l'Argentina ha fatto un bellissimo mondiale nel 2007, dimostrando a tutti che avendo carattere e un po' di organizzazione si può avere risultati. Penso che questa è stata la base del loro risultato. Noi penso che siamo in crescita e sicuramente anche il discorso adesso della Celtic League ci aiuterà con i giocatori che militano nelle due squadre italiane che giocano nella Celtic League per aumentare questo livello ulteriore nella squadra. Come dicevo siamo in crescita e poco a poco arriveremo anche noi, penso, a trovare un'organizzazione o magari un'ambizione come hanno i Pumas. Un'ultima domanda che riguarda te, ma in più in generale magari tanti ragazzi dell'Italia nati e cresciuti ragbisticamente in Argentina. Che partita sarà per voi dal punto di vista magari dell'emotività, delle emozioni? Magari una partita come tutte le altre o comunque c'è qualcosa di strano nell'affrontare il paese dove si è nati e si è cresciuti? Sì, sicuramente c'è questo pizzico. È un po' una partita diversa dalle altre per noi. Noi cerchiamo di affrontarla nello stesso modo come le altre partite, anche se in fondo ci pensiamo. Però una volta che si entra in campo diventa una partita come le altre e andiamo in campo per vincerla. Non è che il posto di Fratelli d'Italia mi canti Edmortales? No, no, no. Grazie mille. Grazie mille.